Michael Jackson Michael Jackson non era, ricordatevelo bene, non era il mostro che è stato che è scritto dai giornali, ricordatevelo sempre, ma Michael Jackson è stato e sarà sempre l'uomo e l'artista che ha scritto questa canzone e con questa ci salutiamo, grazie. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti